Oggi, piccolo suggerimento per la Mermaid, ovvero una flessione laterale. Il grande errore è di fare flessioni laterali che non abbiano allungamento. Quindi, me lo sbaglio apposta, me ne vado qua e mi spaparazzo verso il basso. In modo che da questa posizione può essere bella da vedere, eventualmente, ma non si sente niente. Il nostro obiettivo è intanto allungare, sfruttando anche la spinta delle gambe, e mantenere i fianchi sempre lunghi. In modo che, mentre vado in alto, aggiungo flessione laterale, ma non perdo altezza, continuando a spingere l'ischio opposto a terra e sentire quello che dovrei sentire, cioè l'oblico esterno, quello che si contrae, lavorare per allungare l'altro lato. Quindi non serve un movimento grande senza controllo, ma serve un movimento piuttosto piccolo, ma molto lungo, per avere in modo che la nostra colonna sia sempre controllata e abbia sempre il più grande beneficio, l'allungamento. Per fare un corretto spine twist, bisogna imparare a mobilizzare la parte alta e stabilizzare il bacino. Quindi il grande errore da braccia T è che spesso, in qualsiasi rotazione della colonna, mentre si vuota testo e busto, le braccia continuano il movimento. Mentre ci dobbiamo focalizzare eventualmente con le braccia, per inizialmente così, guardo un finto orologio, a muovere testo e busto insieme, senza continuare dalle spalle, dalle braccia, ma soltanto dalla pura colonna. Quindi imparate ad essere un blocco unico, in modo da portarvelo poi qua e farvelo con la stessa precisione. Quindi allungo e le braccia non cambiano mai forma, mentre la testa e il busto proseguono insieme in rotazione. Il movimento è della colonna.